Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori, un chilometro di coda in direzione Bologna tra Firenze Scandici e Calenzano, rallentamenti in direzione Roma tra Barberino e Firenze Nord. Sulla FIPILI, tra Montelupo ed Empoli Est, chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Montelupo ed Empoli Est, sempre per lavori in direzione mare, rallentamenti tra Santa Croce e Montopoli. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, possibili disagi nel tratto tra Casetta Monte Aperti e Casselnuovo Berardenga. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!